Musica Che fate stasera? Mangiamo un bel panino Sessamuro e Roccarrono Dopo il panino? Ce ne scendiamo, andiamo in Cellina, queste parti qua Siete mai state in un museo di arte contemporanea? Che ne pensi dell'arte contemporanea? E' bello! Al mare Al madre La mia proposta è questa C'è un museo di arte contemporanea là? Dopo può darsi Adesso Stiamo aspettando anche un nostro amico Chi vuoi venire? Sì Allora, come vi chiamate? Maria Federica Francesca Susi Francesca Asquale Matti Sè Ballo, cancio Vado a scuola I selfie I selfie Vogliamo fare un selfie con la telecamera? Sì Buono Semaforo Ognuno di voi mi dice un quadro che gli piace C'è un'opera d'arte che gli piace Quale? Mi chiamo Annalise Madonna Ma quale Madonna? Amarone e l'Arce No, stiamo andando a un altro museo Potete venire a museo? Non sopava Ma non sopava perché l'ho bello Come sono bella La parrucca Non è una parrucca E' per il museo Ok, i biglietti Andiamo al primo piano Che cosa vi fa pensare? Non lo so Il cuore mio fa così Metà paura Fa impressione E' una vasca di 4 metri circa E' una parrucca di profondità Allora Ti fa impressione Ti fa impressione Impressione in tuo cuore Cos'è questo? Un'ancora E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? E poi una porta E poi una porta E poi una porta Quindi riconoscete tutti questi oggetti Vero? E poi? E poi? Grazie a tutti. Non vi siete accorti che c'è un campo di calcio in questo museo? Dove? Dove? Mi seguite? Sì, sì. Voglio due portieri. Tu sei un portiere e ti metti in porta. L'altro portiere? Lei. Vai in porta. Io sono l'arbitro, questo è il pallone. Via! Sì. Vai! Secondo me è il gol. È il gol. A due e uno. Vincono le ragazze due a uno. I pesci. I pesci, ottimi. L'orologi. Orologi. La farfalla. Questo è un gufo. Le rane. Le rane. Che cos'è? Le catene. Catene. È la maschera di... Quella che è fatta appena a cucina. E posso accedere il lugetto? La maschera... Cos'è? Cos'è? La lana. La lana. Che cos'è? I fratelli e i miei amici. C'è il cestino della tombola. Quello è il numero. Questo c'è il numero della tombola. Questi sono i numeri della tombola. Cosa? Chi è Francesco Clemente? Francesco Clemente è un artista napoletano. Cosa? Andiamo sopra. Ora andiamo sopra. Andiamo a vedere altre cose. Una specie di femmine. Una nocchettina. E le tizze. La cosa è una scherza di me. Io vi faccio. Come ci mi parola? Sommi c'è sì cosa. Ma che vergogna. Guarda là. Pure voi avete trovato il simbolo femminile prima. Volevo sapere se è un film porno o se è un museo? Che c'è là dentro? Che c'è là dentro? La palestra. Secondo me niente. Il labinetto. Ne facciamo la pipì. Posso fare la pipì? Perché sta nel museo secondo me? Perché sta nel museo? È antico. La regina è il museo. Bello questo. Allora a me mi è piaciuto il tappeto nero e l'ancora. E basta. Anche a me mi è piaciuto fare il tappeto nero. I disegni che stanno facendo. I specchi con gli scheletri. Ok. Troppo bello. Ero quanto i palloni? Il tappeto nero. A me tutto. Mi è piaciuto tutto, tutto, tutto il museo. Di madre. Perchè bisogna venire al museo secondo te? Perchè non si può. Perchè non si può. Perchè due attente. Tappare un sacco di cose e poi indovinare un sacco di cose. Venite a vedere l'arte contemporanea perché è bello e interessante. E si impara tanto della scuola. Ciao ragazzi!